Giorgia Meloni sulle zone alluvionate, chiarito, nessuna passerella, molti hanno riconosciuto anche il fatto che non abbia insistito e è girato per tutti i Tg questo video che vedete. Ciao ragazzi, voi non credete cosa abbiamo trovato a Chibullo? Ve lo faccio vedere, siamo riusciti a stringere anche la mano, guardate che c'è Giorgia, ma che piacere, non si è mai visto neanche il sindaco di Ravenna, mai visto il sindaco, non si è mai visto il sindaco, nessuno. Come ti chiami? Alberto, facciamo quello che si può Giorgia. Qual è la sfortuna di Giorgia Meloni che siamo andati a vedere il sito Facebook di Alberto, guardate cosa abbiamo trovato, chi ha girato il filmato, arriva, italiani, non si nasce, non si diventa lo straniero, non sarà mai italiano, fatelo capire alla Boldrini, poi abbiamo, ditemi la verità, vi serve una mano e sovrascrive, torna subito, meglio avere un dittatore che mi dia da mangiare piuttosto che tanti politici che rubano e aiutano gli immigrati, un po' sfortunata a Giorgia Meloni. No, devo dire che io avevo anche apprezzato il fatto che arriva dal Giappone e va lì e va senza il codazzo di tutto il seguito e l'avevo trovata genuina per una volta. E invece? Se si fa fare un video così da un supporter, allora no. Supporter di Mussolini, non di Giorgia Meloni. Piccola pausa e ripartiamo.